Non possiamo entrare nel cantiere, sei... Oh, bella dea... Non la lascerò fuggire con quei dati... Vai, 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 vai! Sto andando! Trafico, traffico in avvicinamento! Ce la caveremo! Sto lanciando delle cariche di prossimità! L'ho notato! Ha ricevuto rinforzi! Che tipo di armi possiede questo aggeggio? È un taxi, ha solo un tassametro! Magnifico! Camion! Lo so! Camion! Lo so! Ecco fatto! Ti stai divertendo! Una collisione frontale a questa velocità! Già, ho sentito dire che non è proprio il massimo! Camion! Di nuovo! Attento! Attento! Grazie a tutti. Sono precipitata sull'Azur! Mandatemi dei dannati rinforzi! Attento! Stanno lanciando dei rinforzi!